Ciao a tutti, oggi per Futura siamo qui alla sede centrale della RAI in Via Verdi per intervistare il caporedattore della RAI Torino, Carlo De Blasio. Secondo lei quali sono le caratteristiche e le potenzialità di questa azienda rispetto ai principali competitor e soprattutto quali sono gli obiettivi? La grandezza, il numero di persone che lavorano e la sua storia lunghissima. Questo non trova paragoni nei concorrenti, anche se alcuni di questi hanno una bella storia ormai alle spalle. Ma la grandezza, proprio in termini quantitativi, non sto dicendo la grandezza in termini di grandeur alla francese, è un dato fuori da ogni discussione, cioè il numero di persone che lavorano per la RAI, il tipo di competenze, di organizzazione gerarchica, di capillare, di fusione sul territorio è straordinario. Questa è la forza della RAI. Allo stesso tempo è anche la difficoltà, perché governare un'azienda di questo tipo, organizzarla e soprattutto imprimerle quelle necessità di innovazione e di adeguamento ai tempi che sono l'esigenza primaria di chi vuole restare su un mercato dell'informazione in continuo cambiamento, è molto difficile. Che differenza c'è tra la BBC e, ad esempio, la RAI? Le differenze sono sempre tante, a parte la BBC, ma qualunque broadcaster ha una sua identità, ha un suo modo di lavorare, direi che forse la cifra più importante che distingue la BBC rispetto a tanti altri è quella di un'attenzione scrupolosissima al rispetto di tutte le regole, quelle deontologiche, quella delle parità, quella dell'uguaglianza degli spazi a tutti, compresi le minoranze. Questa è una cosa fortissima che ho imparato lì e che un po' mi è rimasta. Non pensa che, appunto, questa azienda abbia un gap notevole rispetto alle altre. Pensa, ad esempio, alla recente digitalizzazione che ha avuto la RAI, che è un qualcosa avvenuto davvero pochi mesi fa, rispetto invece a tutte le altre grandi aziende che invece già trasmettono in HD. Questa azienda ha difficoltà a essere veloce, perché è enorme, è un'azienda complessa, delicata, anche per i contenuti che produce, soprattutto quelli giornalistici, quindi non è facile. Resta il fatto che poi quando lo fa, lo fa molto bene e vorrei dire una cosa, poi alla fine la RAI è sempre la RAI e questo viene fuori nelle emergenze, nelle grandi notizie, nelle grandi occasioni, nelle circostanze straordinarie. E' un impulso di tutti gli italiani che comunque hai visto sul social network, hai letto la notizia sul web, l'ha data qualche radio o la radio in generale prima di tutti, poi per la conferma tu accendi il Tg1 delle 20 o altri appuntamenti analoghi che sono quasi, vorrei dire, sacri, tra virgolette, per le conferme e per sentire la voce dell'ufficialità.